Si è tenuto nel pomeriggio di sabato 19 luglio, presso il castello di fiume freddo Bruzio, il convegno La dieta mediterranea, il cibo da salvare per prevenire. Una manifestazione promossa dall'associazione Le donne scelgono, in collaborazione con Coldiretti Donne Imprese e con il sostegno della fondazione Come in Italia. Durante l'incontro si è discusso sui benefici della dieta mediterranea e sull'importanza del consumo dei suoi peculiari gruppi alimentari per la prevenzione di numerose malattie. Tra gli ospiti intervenuti, il senologo Laffaele Leuzzi, responsabile dell'associazione Le donne scelgono, che ha sottolineato l'importanza del consumo di alimenti come frutta, verdura, pesce, l'olio d'oliva e persino il vino rosso, in quanto ricchi di proprietà nutritive e benefiche, che riducono in maniera significativa il rischio di mortalità anche per i tumori, i vi compreso il tumore al seno. Una malattia che in Calabria presenta alti tassi di mortalità per il ritardo diagnostico. Mangiare sano significa anche rinunciare alle proprie abitudini alimentari errate e ciò implica la conoscenza della qualità dei prodotti alimentari e la loro provenienza. A sottolineare tale aspetto è stato il comandante del Corpo Forestale dello Stato per la Calabria e la Sicilia, il dottor Giuseppe Graziano, il quale durante il suo intervento è evidenziato come il rilancio della dieta mediterranea serve anche a contrastare la contraffazione del Made in Italy agroalimentare, favorendo la salvaguardia delle biodiversità e dei prodotti tipici. Le produzioni tipiche sia calabresi che siciliani sono di livello internazionale e quindi tutelare la contraffazione ed anche verificare e vigilare sull'etichettatura, sull'origine, è chiaramente importante sia per i produttori, per chi acquista e soprattutto per l'economia di queste due regioni ed anche per la salute umana, chiaramente. È chiaro che tutto ciò porta a salvaguardare il paesaggio agroambientale, il paesaggio alimentare, che è tutto ciò che ruota intorno all'ambiente e quindi anche i prodotti agroalimentari e tutto ciò che riguarda quindi la nutrizione e la salute umana del consumatore. È proprio attraverso l'orientamento del consumatore verso l'utilizzo di prodotti biologici sani e sicuri dei quali si conosce la provenienza che si può migliorare la propria salute anche quando si mangia. La dieta mediterranea è l'unico strumento che noi abbiamo a disposizione per la prevenzione primaria del cancro, che significa prevenzione primaria del cancro della mammella, intervenire sulle cause e c'è un grosso nesso causale tra alimentazione e cancro.